Ed eccoci ritornati in diretta. Dunque, come vedete già dalle immagini della nostra regia, è arrivato il primo ospite di giornata, il professor Giovanni Chifari, che ringrazio come sempre per la sua disponibilità. Buongiorno Giovanni, ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, ben trovati a tutti. Dunque, abbiamo sottolineato in apertura di programma questo bel tema che vediamo anche nel manifesto che i frati minori Cappuccini hanno preparato per la novena di San Pio da Pietrelcina, per elencare le varie celebrazioni, dalle ferite la vita nuova. Dunque, è un cammino che è segnato anche dalla felice ricorrenza degli 800 anni della stigmatizzazione di uno dei più grandi santi della storia, San Francesco d'Assisi. Non a caso, ecco, li vediamo insieme come se fossero due compagni di viaggio in questo cammino, evidentemente, che stiamo intraprendendo verso la festa liturgica di San Pio da Pietrelcina. Francesco e Padre Pio, Giovanni, quindi due grandi uomini, due grandi santi che ancora oggi continuano a far parlare. Due discepoli di Cristo che hanno approfondito la relazione con Lui e questi effetti relazionali si sono visti nella loro vita, nella loro esperienza biografico spirituale, fino, come dicevamo, a lasciare un segno, un segno d'amore, le stigmate. E quindi così possiamo vedere questi due autentici testimoni di Cristo. Sono riusciti ad entrare in relazione con Lui attraverso l'ascolto, un ascolto profondo, e sono divenuti tutt'uno con la parola annunciata, creduta, vissuta. Ecco, San Francesco e Padre Pio. E allora voglio chiederti, le stimmate sono un fenomeno mistico che continuano ad interrogare, meravigliare e suscitare stupore. Padre Pio se ne vergognava addirittura. Come possiamo contestualizzare questi atteggiamenti nel contesto della festa di oggi, dell'esaltazione della Santa Croce? Ok. Sì, c'è il primato della croce, il primato della croce di Cristo. Ma a Cristo e alla sua croce si può anche guardare in modo mondano. E allora si vanifica la croce, non va ostentata. Un mio professore, Don Giuseppe Bellieri, di cui parlo sempre, lui diceva che verso la croce si ascende da vinti e non da vincitori. Questo è il problema. Si può guardare la croce in modo mondano, in modo carnale, come dice Paolo a quelli di Corinto. Voi siete ancora carnali. Ecco, bisogna invece lasciarsi rinnovare, lasciarsi convertire, come hanno fatto San Francesco e Padre Pio. Allora la croce e quindi le stimate sono segno d'amore, ma anche una testimonianza che Dio attraverso questi suoi servi eletti offre al mondo intero. Perché dalla croce lui continua quest'opera di attrazione. Attirerò tutti a me. E questo è alla base dell'esperienza cristiana. Non c'è un proselitismo d'attacco, di ricerca affannosa del cristiano e del discepolo, ma è un fenomeno di attrazione. Attirerò tutti a me. Padre Pio e San Francesco si sono lasciati attirare. E in loro due le stigmate giungono in momenti diversi. In San Francesco quasi a sigillare un percorso di discepolato. Nel silenzio. Ecco, il silenzio è un fattore comune a tutti e due. Nell'amitezza. E in San Francesco nell'ascesa. Così, un fenomeno che riguarda e ricorda proprio il punto di vista biblico, il Sinai, il Monte Tavor della trasfigurazione. C'è una salita che Francesco fa e lì riceve questo dono. Anche lui voleva nasconderlo. Come dice il libro di Tobia, i segreti del re non si rivelano. Ma ci sono alcuni segni che vengono dati anche per rinsaldare la fede di chi è dinanzi. Anzi, appunto come segno di liberazione, come esorcismo sul mondo potremmo dire. E qui passiamo anche a Padre Pio che riceve prima le stigmate invisibili e poi quelle visibili. Visibili che porta per 50 anni. Dal 20 settembre del 18 fino a poco prima della morte. E quello è un segno nei confronti di tutto quel mondo pieno di conflitti. Senti, guardare alla croce, libro dei numeri, guardarono a quell'asta che simboleggia la croce e furono salvati. Non si può bypassare la croce, bisogna attraversarla. Ma poi c'è la resurrezione. E non a caso la novena di San Pio comincia proprio oggi come un prediletto della croce. Ecco, esaltazione della croce, ma ripeto, non al modo mondano. In effetti anch'io riflettevo su questa provvidenziale. Ce ne sono tante di provvidenze nella vita di Padre Pio pre e post mortem, potremmo dire. Questa è una delle tante che colpisce. Perché cominciare la croce, o meglio la novena, nel giorno dell'esattazione della Santa Croce, è sempre un motivo che ci porta a riflettere. Per questo, questa mattina abbiamo voluto cominciare con te, Giovanni, proprio per, in qualche maniera, individuare il focus preciso entro cui vivere questi giorni di grazia. Ma tornando a San Francesco e alla vita di San Francesco, noi sappiamo che la sua è una vita affascinante, ai limiti quasi dell'avventura, della leggenda, o se re di non a caso viene chiamata leggenda, una delle sue biografie più importanti. Però, nonostante questo, è diventato un modello universale di fratellanza, proprio tra tutti i popoli. E mi veniva una riflessione che vorrei condividere con te. Il carisma di San Francesco, noi ormai ci avviciniamo anche agli 800 anni della sua morte, nel 2026 ricorderemo l'ottavo centenario. È un carisma che, invece di invecchiare, sembra ringiovanire sempre di più. Col passare degli anni, Francesco diventa sempre più giovane. Non so se condividi. Condivido perché Francesco è sotto l'egida dello spirito. E le opere dello spirito sono sempre vivificanti. Mai muoiono, ma sono sempre, si rinnovano nei secoli. Attraverso le testimonianze di coloro che ne accolgono il carisma. Perché il carisma viene dallo spirito. E dunque, chi anche oggi abbraccia questa via, non fa altro che essere strumento di quest'azione dello spirito vivificante, che vuole rinnovare il mondo, rinnovare l'universo. E lo fa così al modo di Dio. Dio si serve anche delle persone. E agisce attraverso questo intreccio di mediazioni e di relazioni. E proprio tutta la vita di Francesco continua ad avere questo grande segno. Anche oggi, perché lui si è lasciato pacificare. E chi si lascia pacificare diviene pacificante. Per tutti coloro a cui attingono alla sua mediazione. Riprendiamo ancora proprio questo termine della mediazione. Sembrerà strano che l'esperienza cristiana ci proponga di iniziare un cammino a partire dalla croce. Nessun'altra realtà che vuole un po' sponsorizzare quello che fa presenterebbe all'inizio la difficoltà. Tutti ti presentano invece la bellezza, la prospettiva. Il cammino cristiano è invece la croce. Così come dice anche il libro del Siracide, figlio, se ti prepari a servire al Signore, preparati alla tentazione. Che è strettamente connessa alla croce. Perché la tentazione è un atto di amore. La tentazione ci fa crescere. Così come la croce che è appunto da attraversare. E San Francesco e Padre Pio hanno mostrato i frutti di questa croce. Frutti dello spirito al singolare, secondo Galati 5, 22. Il frutto dello spirito è innanzitutto amore e poi tutto il resto. E culmina nel dominio di sé. Che è la cosa più difficile. E di cui si dovrebbe parlare molto oggi. Eh certo. Soprattutto ai nostri giovani. Assolutamente. Giovanni, pace, riconciliazione e cura del creato. Argomenti fondamentali per la vita del cristiano e nella vita del cristiano. Quale sprone deve venire dalle vite di Padre Pio e San Francesco per costruire un mondo più giusto? Accogliere la conversione così come l'hanno accolta loro. Perché poi il riflesso nella vita sarà pacificante, di pacificazione. Perché tutto ciò dipende anche dallo sguardo che noi esercitiamo verso il prossimo e verso il mondo. Se noi guardiamo a Dio con lo stesso sguardo con il quale guardiamo a Dio nell'atto relazionale di affidamento, nell'atto relazionale di studio, ascolto della parola, di ricerca di Lui. Allora il riflesso si avrà anche in questa prospettiva orizzontale che è duplice. Verso il prossimo e verso il creato. Perché la creazione come viene da Dio. Anche lei cerca e aspetta la rivelazione dei figli di Dio. Dice San Paolo nelle lettere romani, capitolo 8, intorno al versetto 20 e seguenti. Aspetta i figli di Dio proprio perché c'è un'alleanza tra uomo e creato. Se noi invece guardiamo dalla prospettiva della natura, troveremo un'ambivalenza. Perché la natura in sé è ambivalente. Ora madre, ora matrigna, ora oppositiva. Se guardiamo nella prospettiva del creato, riscopriamo l'alleanza. Che agisce attraverso la continua e costante conversione. Conversione significa ritorno. Significa cambiamento intellettuale, morale e religioso. Quindi cercate Dio e tutto il resto verrà naturale. Ecco, come dice il Vangelo di Matteo. E tutto sarà un sovrappiù. Matteo 5. Dopo il discorso della montagna. Ecco Gesù lì precisa questo aspetto qua. Grazie Gianni. Bene Giovanni, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Perché abbiamo, come dicevo, individuato un primo focus per vivere. Anche in maniera più proficua questo tempo di grazia, questo Kairos. Mi permetterei di sottolineare e di aggiungere che ci vedrà insieme fino al prossimo 23 settembre. Ovviamente il cammino non finisce il 23 settembre ma prosegue. Ma questi giorni davvero approfittiamone per vivere in silenzio, in preghiera e con pacificazione. Per utilizzare i tre atteggiamenti che tu ci hai suggerito per vivere in pienezza appunto questo periodo. Grazie Giovanni. In una dimensione di costante ascolto. Ascolto. Aggiungiamoci un quarto allora. Il primato della parola, no? La parola va ascoltata, accolta, custodita e poi porterà frutto. Grazie, grazie Giovanni. Torna a trovarci quando vuoi. Sei ormai di famiglia qui a Padre Pio TV. Ti aspettiamo. Adesso andiamo in pubblicità e poi ancora insieme. Grazie a tutti.